Nuove nubi all'orizzonte per l'ex Blutec di Atessa. In attesa della decisione del Tribunale dell'esame di Torino sul dissequestro dei beni, a quello di Pescara sono giunte ben tre istanze di fallimento. Una pare sia stata presentata dalla stessa procura, le altre due da trettanti fornitori che non avrebbero ricevuto alcun pagamento per i servizi resi. Siamo ancora nella fase embrionale. Dagli uffici di cancelleria non viene fuori alcuna notizia in merito, ma se questo venisse confermato nei prossimi giorni, la conseguente procedura potrebbe portare a un'inchiesta per bancarotta fraudolenta a carico della titolare Roberto Ginat e dell'amministratore delegato Cosimo di Cursi, con scenari ancora più drammatici dell'attuale realtà per i 230 lavoratori solo nello stabilimento della Val di Sangro. Si tratta comunque di un passaggio tecnico rispetto ai procedimenti in corso e indirizzato al Tribunale di Pescara per il semplice fatto che nella 2014 la Blutec S.P.A. si è costituita proprio nell'ufficio di un noto commercialista del capoluogo adriatico. Aspettano di ricevere notizie più dettagliate in merito ai sindacati prima di prendere posizione. Intanto la FIOM di Chieti ha chiesto un incontro urgente in prefettura e in regione affinché le istituzioni facciano il loro per mettere in sicurezza i livelli occupazionali. Su fronte giudiziario, a distanza di poco più di un mese dall'arresto di Ginata e di Cursi, poi rimessi in libertà perché accusati di non aver correttamente impiegato i 21 milioni dello Stato per il rilancio dello stabilimento di termini merese, si attende la decisione del Tribunale del Resame di Torino sull'eventuale dissequestro dei beni, tra questi gli insediamenti produttivi al momento affidati a un curatore che sta garantendo quantomeno l'ordinario svolgimento del lavoro e il regolare pagamento degli stipendi. Se i giudici torinesi dovessero riaffidare gli stabilimenti a Ginata e di Cursi, dicono i sindacati, sarebbe un disastro. Sullo sfondo Ingegneria Italia ed MA, i due acquirenti che prima di mettere nero su bianco attendono gli eventi, mentre in fabbrica si continuano a lavorare, assediati dalle preoccupazioni.